L'intervista, un podcast di Giovanni Certomà, notizie, approfondimenti, attualità. Un saluto e un abbraccio a tutti gli ascoltatori che ci seguono in podcast, naturalmente puntata dedicata all'atletica leggera, ma quella giovanile, quella studentesca, perché dal 28 al 30 di maggio si sono disputati a Pescara le finali dei campionati studenteschi di atletica leggera su pista e molto folta la delegazione calabrese, mi pare una settantina di atleti il capo delegazione. L'amico Fausto Certomà, che accompagnava i suoi atleti, quelli dell'Istituto di Istruzione Superiore Mazzone di Rocella Ionica, ma lui in qualità di componente dell'organismo regionale per lo sport, scuola dell'ufficio calabrese e anche tra l'altro formatore territoriale responsabile regionale del fit walking, sicuramente può raccontarci come è andata questa esperienza. So Fausto che siete in viaggio, quindi state tornando in Calabria, quindi sicuramente sentiremo dei rumori di sottofondo. Raccontaci come è andata questa esperienza che mi pare, al di là dell'aspetto sportivo fosse legata anche alla festa delle regioni che c'è stata, quindi un'ottima e straordinaria occasione di condivisione anche delle abitudini, mi pare, culinarie e gastronomiche. Fausto. Ciao Giovanni, stiamo ritornando adesso dalla Pescara, dai campionati nazionali di atletica leggera, con tutta la delegazione calabrese, questa avventura sportiva, ma non solo. Infatti quello che mi piace sottolineare di questi eventi è la parte anche sociale e devo dire pure quest'anno una particolarità. Oggi è la manifestazione sportiva di altissimo livello di contenuti tecnici elevati. C'è stata la festa delle regioni, quindi tutte le regioni d'Italia in una piazza strapiena. Hanno portato i prodotti tipici, ognuno col proprio stand e quindi c'era questa mescolanza di odori diversi, di sapori diversi tra regioni e regioni, quindi è stato anche questo momento di grande socialità. Per parlare poi dei contenuti sportivi posso dirti che il livello medio si è erzato notevolmente, quindi i nostri ragazzi hanno brillato, considerando ovviamente non è retorica comunque ripetere che la nostra regione dal punto di vista dell'impiantistica sportiva è la meno dotata d'Italia, credo, e quindi ovviamente i risultati ottenuti sono dei miracoli. Quindi un aspetto che mi piace anche sottolineare è che i nostri ragazzi hanno mantenuto sempre un comportamento corretto rispetto dell'avversario, rispetto dei giudici, cose che non è scontata. Oltre questo abbiamo dimostrato quanto lo sport è un fattore di inclusione. Molti dei nostri ragazzi paralimpici hanno ottenuto anche dei risultati interessanti, sono andate in medaglia, abbiamo preso sei medaglie e quindi anche dei risultati notevoli, per esempio nel lancio del peso categorie allievi abbiamo avuto un quinto posto nazionale, un decimo posto per quanto riguarda la corsa d'ostacoli nazionale, quindi tra i primi dieci d'Italia, ma per più discipline. Oltre alle medaglie che ho citato prima dei ragazzi. Quindi l'esperienza è stata positiva, positiva e noi come Istituto Mazzone di Roccella ormai abbiamo creato una tradizione, diciamo, perché è la seconda volta che andiamo a Pescara, su due volte abbiamo centrato sempre l'obiettivo, quindi non è più un caso che l'estimazione di Roccella va alle nazionali in atletica leggera. E quindi noi continueremo a lavorare in questo senso, io continuerò ad impegnarmi con i miei alunni futuri, quelli che oggi non sono stati presenti per questione di età, perché sono ancora piccoli, ma che saranno pronti per il prossimo anno e per gli anni a seguiri. Per quanto riguarda il resto, quello che mi voglio sottolineare è anche l'aspetto, come dire, della ricaduta positiva che hanno queste iniziative sul rendimento scolastico, sia lo sport in generale, ma anche le avventure che poi lo sport ti fa fare, come questa di Pescara. Quindi Giovanni, io ti ringrazio, ti faccio un caro saluto, saluto tutti quelli che ci stanno ascoltando e ad maiorano sempre. Non avevo dubbi, Fausto, che questa esperienza si sarebbe tradotta come un'avventura, un'avventura non soltanto sportiva, ma in effetti molto più vasta, molto più larga. Del resto noi sappiamo benissimo quanto sia importante lo sport come strumento di valorizzazione dei nostri ragazzi, di responsabilizzazione come strumento di condivisione e anche di inclusione. Io vi lascio in tranquillità rientrare nella nostra amata Calabria. Ricordiamo questa straordinaria esperienza vissuta dalla delegazione calabrese ai recentissimi campionati nazionali studenteschi di atletica leggera che si sono disputati su pista. Sono convinto che nei prossimi anni questa tradizione della presenza di atleti, di ragazzi calabresi nelle fasi finali a livello nazionale crescerà sempre di più. Io vi ringrazio del cortese ascolto e vi rimando al prossimo podcast. L'intervista, un podcast di Giovanni Certomà. Notizie, approfondimenti, attualità.